Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa conduttrice Michelle Hunziker ha rivelato una confessione inaspettata sulla sua gravidanza durante un'intervista al settimanale Maria Contè. Hunziker ha svelato di essere rimasta incinta grazie all'intercessione della Madonna, definendola il suo modello di femminilità e maternità. Nel 2013 Hunziker ha raccontato di non riuscire a concepire e di aver chiesto alla Madonna di concederle una seconda gravidanza durante una visita alla cattedrale di Monreale. La Madonna ha ascoltato la sua preghiera e poco dopo il suo ex marito Tommaso è arrivato a Palermo, dove è stata concepita la loro figlia Sole. La conduttrice, molto devota alla Madonna, ha condiviso un altro aneddoto significativo. Durante una rassegna di automobili antiche a Biella, Hunziker ha ricevuto una chiamata che la invitava a visitare il santuario della Madonna di Oropa, poco dopo aver pregato la Vergine. Questo evento ha rafforzato la sua devozione per la Madonna. Michelle Hunziker ha sottolineato l'importanza della Madonna nella sua vita e ha messo gratitudine per aver ricevuto la grazia di diventare madre una seconda volta. La sua storia ha suscitato interesse e ammirazione per la sua fede e la sua relazione speciale.